Ultimo appuntamento presso il centro di equitazione e riabilitazione Acqua 2O di Mesagne per i bambini e ragazzi che hanno partecipato ai laboratori estivi organizzati dal consorzio BR4 in collaborazione con la cooperativa sociale Onlus San Bernardo. L'edizione 2023 si è conclusa dopo diverse settimane di attività collegate fra loro dagli obiettivi comuni di socializzazione, opportunità di ulteriore crescita e tanto divertimento. 90 minori, il numero continua a crescere di anno e anno provenienti dai nove comuni dell'ambito territoriale sociale. Hanno continuato il percorso di integrazione scolastica condiviso con coetanei ed educatori nel corso dell'ultimo anno scolastico. Un gran lavoro di squadra del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea dei sindaci, tecnici e professionisti del consorzio e dei nove comuni che fanno parte della cooperativa che gestisce il servizio delle assistenti sociali, di coordinatori, educatore OSS. Ha definito ogni dettaglio rendendo l'esperienza ineccepibile. Merito anche dei genitori e delle famiglie dei minori che anche quest'anno hanno collaborato con fiducia. Grazie soprattutto allora alle bambine e bambini, piccoli e adolescenti che non smettono di rappresentare e meritare la motivazione più grande affinché l'accurato servizio venga realizzato nel miglior modo possibile, ha commentato Antonio Calabrese, presidente del consorzio BR4, intervenuto in occasione della giornata conclusiva per la consegna degli attestati finali.